Allora abbiamo Merola, ti salutano tutti quindi ogni volta che ti fanno una domanda è un saluto Allora c'è Luciano Gallucci di ilfoggio.com che dice finalmente una partita alla Merola Dice se sei d'accordo, si nota una certa macchinosità nel proporsi in avanti da parte di voi attaccanti Da che cosa dipende e a che punto è la tua preparazione, il tuo stato di forma? No, inizio da rispondere al mio stato di forma, oggi stavo bene Comunque continuiamo a lavorare in settimana per arrivare pronti alla partita E confermo che è stata la mia miglior prestazione da quando sono arrivato qui con la maglia rosso-nero Sulla macchinosità in avanti secondo Gallucci? Sì, stiamo lavorando per cercare di mettere in pratica quello che ci chiede il mister Dei tagli, degli 1-2, cerchiamo di metterli in campo al meglio possibile Speriamo di scrollarci un po' questa macchinosità che abbiamo ma penso che arriverà col tempo Gianni Gliatta, Foggia Posto, dice se sei stato sfortunato sul coppa di testa e impreciso sulla ribattuta Sì, potevo far meglio magari sulla ribattuta col mancino perché me la sono portata pure sul mio piede Però non è entrato Immaginavi questo inizio di campionato o ti aspettavi qualcosa di più? Sia a livello tuo personale e individuale che a livello di squadra? No, mi immaginavo un inizio di campionato così Perché comunque vedendo anche tutti gli altri inizi del mister Come si parla? Me lo aspettavo così ma noi faremo di tutto per cambiare la ruota Già da mercoledì vogliamo vincere, vogliamo i tre punti per poi lavorare anche mentalmente con un morale diverso Francesco Bacchiere di Mitico Channel ti richiede innanzitutto e concorde con gli altri Dice oggi abbiamo visto il vero Merola nel primo tempo davvero determinato Che cosa manca al Foggia per trasformare tutte le nuove di azioni che fanno in gol? Manca la cattiveria sotto la porta, manca la voglia di fare gol Perché oggi siamo arrivati 9-10 volte sotto la porta e dobbiamo fare più gol sicuramente Se portavamo a casa i tre punti loro non ci hanno fatto un tiro in porta se non il tiro del gol Quindi manca la voglia lì davanti di fare gol e di portare a casa la partita E visto che hai cominciato l'analisi della gara, primo tempo in cui praticamente forse il soldi fu già un po' più compassato Che però le azioni le ha conquistate, poi il loro gol, azione successiva, palo, l'azione... Sì ma c'è stata una reazione subito anche dopo il gol preso, è come se non l'avessimo preso il gol E oggi la squadra c'era, c'era una cattiveria, c'era la voglia di vincere qualsiasi duello Anche quello più banale, volevamo portare il pallone dalle parti nostre Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma non siamo abbattuti comunque perché la prestazione c'è stata Il mister ha detto prima ad Andrea comincia il nostro campionato Sì ma il campionato è già iniziato, abbiamo buttato un po' di punti, l'abbiamo perso un po' per la strada Proviamo a portare i tre punti già da mercoledì